Mamma, che cos'è la guerra? Perché non ce ne parlate e siete più occupati? Vedi, sta succedendo un po' come succede nei videogiochi o nelle favole che conosci. Ci sono due posti diversi che adesso si stanno scontrando tra di loro perché vogliono cercare entrambi di vincere. Ci vedi tutti così preoccupati perché lì ci sono persone che si stanno facendo male e noi vorremmo che facessero la pace. Mamma, ho paura di avere la guerra. Ho paura che arrivi qui. È normale avere paura. La guerra è una cosa brutta. E anche noi, se ci pensiamo, ne abbiamo un po'. Ma qui con mamma e papà sei al sicuro. Se ho paura, con chi posso parlare? Se ti dovesse capitare di provare paura, confidati con noi, con i tuoi insegnanti. Siamo tutti qui insieme per trovare il modo migliore per stare bene. Grazie.